Prima di cominciare a guardare il nuovo fantastico video della famiglia più pazza del web, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavaleri Family, attivate la campanella, mettete tanti like e soprattutto commentate qual è la canzone più bella dell'estate 2020! Scrivetelo qua sotto, fatecelo sapere e se l'avete anche cantata... Ciao a tutti! Io sono Papa Salvo Io sono Mamma Claudia Io sono Aurora E lì c'è Emi che dorme Noi siamo i Cavaleri Family! Qualcuno mi aveva detto l'intero della scella Noi siamo in Sicilia, la mia Sicilia, la mia regione Ebbene sì ragazzi, siamo finalmente in ferie, ci stiamo dirigendo verso il mare, siamo in macchina, mettiamo le cinture, che ne dite? Andiamo? Mamma mia, posso dire una cosa a mamma? Certo Avete visto il video della bambola? Andatela a vedere! Solo la mamma crede che sia viva quella bambola Vabbè ragazzi, è il momento di mettere la cintura, forza! Stiamo per partire! Scusate, in questo clima di vacanza, io direi di cantare! Voglia di ballare un reggae di spiaggia, voglia di riaverti tra le mie braccia, in una spiaggia piena, per fare tutto quello che non si poteva! Ma che sta succedendo qua? Sto succedendo! Ecco, si spedda anche la macchina mamma! Ma come? Abbiamo appena iniziato le vacanze! Non ci posso credere! Ridevamo, cantavamo, eravamo felici! E ora la macchina è ferma! Guardo cosa c'è il motore, mamma! Ma io non ci capisco niente di motori, mamma! Tu ci capisci qualcosa? Io? Scusami, direi proprio di no! Poi cosa stai facendo qui? Ormai basta! La macchina si è fermata, rassegniamoci e stop! Prendiamo le cose e scendiamo qui! Cosa dobbiamo fare? Ormai! Mamma mia che disastro, mamma! Lo sai che è successo? Cosa? Ho dimenticato di fare benzina! Non ci posso credere! Cioè, ma è tutto vero? Partiamo e non fai benzina! Faccio scendere le bambine, mamma! Che disastro! Eh, papi, a questo punto, non lo so, andiamo giù di là, vediamo dov'è il mare, sarà... Mamma, guarda qua! Mamma, guarda qua! Auri, che cosa hai trovato? Che cos'è questa? La macchina! Fermi, fermi, prima che la rompiamo! Vediamo che cosa dice questo foglio! Questo sembra delle scalinate, una barca! Poi questa che cos'è? Treasure Island! Treasure Island! L'isola del tesoro! Ma sembra a tutti gli effetti essere una mappa! È vero, Auri? Mamma, è una mappa per tesoro! E che cosa ci fa una mappa del tesoro proprio qui, in mezzo ai cespugli? Papi! Papi, abbiamo trovato una cosa! Tirati su, cosa fai? Non c'è neanche un distributore vicino qui, siamo disperati! Papi, Aurore e Noemi hanno trovato una mappa del tesoro, guarda! È vero, papi, guarda! No, vabbè, ci risiamo, di nuovo! Chi ce l'ha data, mamma? Non sarà mica il professor Mignolo, mamma? Eh, papi, io non lo so, fatto sta che hanno trovato questa mappa, loro io direi di trovare il tesoro! Magari diventiamo ricchi! Sì, secondo me stavolta troveremo il tesoro dell'isola perduta! Tante monete d'oro, gioielli, diamanti! Sì, stavolta ce l'abbiamo fatta! Diventeremo ricchi! Mamma, mamma, ti sei sbagliata? C'è anche la bussola! Dobbiamo andare al nord! No, di nuovo al nord, mamma! Di nuovo a Milano! Dobbiamo tornare a Milano! Ma no, 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 io voglio stare qua a sud, forse dobbiamo andare verso nord, no? Può essere, vediamo la mappa che cosa dice, Auri! Prima andiamo qui, lì giù, seguite me! Va bene, mamma, seguiamo Aurore e Noemi, sono più bravi di noi! Mi sembrano molto esperte, seguiamo loro, dai, andiamo, andiamo! Segite me! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo, andiamo! Sempre dritto, eh! Sempre dritto? C'è una freccia! Mamma, la freccia dice di andare di là, quindi fa parte proprio del tragitto! Però seguitemi, dai! Andiamo, andiamo! Siete lenti, veloce! È veloce, veloce, andiamo, ho dovuto prendere la borsa a frigo, tutto, no, mamma? C'è una freccia! Ancora un'altra? Dice di scendere ancora giù, mamma, lo stesso colore del cartoncino! Sono tutte frecce col cartoncino verde, allora forse la direzione è quella giusta! Ha ragione, Aurora, seguiamo le indicazioni, andiamo! Va bene, io vado di qua, sicuro che di qua! Papà, è di là la strada! Ma dove vai, papi? Così ci perdiamo di nuovo! Sarà un disastro ritrovarci, già che non sappiamo dove siamo! Dobbiamo seguire le indicazioni di Aurora! Ci sta guidando lei! Papi, non vedi che c'è un'altra freccia in vita su! Vero, ancora! Ma che cos'è? Una strada segreta, mamma! Aiuto, fatemi vedere! Ragazzi, ma è pazzesco! Tutte le scale, esattamente quello che diceva la mappa! Ma dove ci starà portando questo sentiero? Le scale, un percorso strettissimo, aveva ragione la mappa! Mamma, ma io qua non ci passo, guarda! Andiamo, dai, papi, andiamo! Ma dove ci sta portando questa mappa? Boh! Speriamo che le indicazioni siano quelle giuste, quelle che ci stai dando tu! Secondo te è giusto il sentiero? Sì, guarda! Forse hai ragione, esattamente come diceva la mappa, i gradini! Ma andiamo! Come, Emi? Andiamo! Ma papà dov'è? Si è perso, è ritornato su, forse! Sono rimasto ingastrato, mamma! Non riesco a passare, il sentiero è troppo stretto! Cosa dici? Ma sbrigati! Eh, zetta, sono troppo ciccione, mamma! Andate avanti voi, dai! Papi, sembri una medusa incagliata nella rete di un pescatore! Ma cosa stai facendo? Scusa, eh! Dai, sbrigati! Slegati da lì e andiamo! Ce l'ho fatta ragazzi, ma era troppo stretto per me! Guardate ragazzi, ma... Mi volete seguire o no? Non ti bloccare papi! Ragazzi, è sempre più stretto, è sempre più buio! Serma, Auri! Non andate troppo avanti! Non lo sappiamo cosa c'è dentro l'angolo! Mamma, tranquilla, c'è il mare! Il mare? Ma qui no, ci sono i fichi d'India, gli alberi! Ma sì, ma poi è tutto buio, è stretto, io ho paura! Quasi quasi torniamo indietro! Torniamo indietro? Torniamo indietro! Torniamo indietro! No, 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 no! Qui non si torna indietro perché la mappa non si può ritornare indietro! Si deve andare avanti! Seguitemi! Guardate! Ma è bellissimo, mamma! Oh mio Dio! Ma che cos'è? Quella è l'isola, forse? No, mamma! Quello è il paradiso terrestre! Quella è l'isola! Mamma, ma è stupendo! Ma dobbiamo raggiungere quell'isola! Penso proprio di sì, non lo so! Vedremo! Arriviamo! Ma come ci arriviamo lassù? È il sentiero, Aurore e Noemi già sono avanti e noi siamo indietro! Andiamo, andiamo! Ma dove siete? Arriviamo, arriviamo! Andiamo, andiamo, papi, corriamo! Ma sono troppo svelte, Aurore e Noemi, mamma! Fermi! Piano! Fermi! Qua si scivola, possiamo cadere, ci facciamo male! È pericolosissimo questo sentiero! Papi, queste sono le scale, andiamo e goditi il mare! Eccole le scale che erano sulla mappa, ragazzi! Sono proprio queste! Qua ci sono le scale! Eccole! Proprio quelle che stiamo facendo adesso, mamma! Andiamo, stiamo attenti! È tutto molto difficile, molto ripido! Sono proprio ripide! Ci siete? Sì! Mamma, Noemi! Dove siete? Dobbiamo avere la carta del tesoro! Eccole! Guardate che ripida questa scala! Ce la fate? Stiamo arrivando, piano piano! Andiamo di qua! Pazzesco, ragazzi! Dobbiamo attraversare anche la roccia, mamma! Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati! Eh, ma ora c'è la roccia, hai capito? Quale roccia, papi? Questa! Oh, mamma, dobbiamo anche scalare? Sì! Salta, amore, salta! Sì! Eccoci, mamma! Siamo arrivati, ma sono stanco, sono sfinito! Sono distrutta, sudata, meno male che ci siamo appoggiati qui! Sì, ma scusa, ma come arriviamo adesso dall'altra parte? Io vedo una barca, che significa questa mappa? Ma poi, mamma, ma scusa, ma come ti sei vestita? Come, papi? Questo è il telo dei Cavaleri Family, viene sempre con noi, quindi per averlo, mi raccomando, www.cavalerifamilyshop.it, ok ragazzi? Ve lo lasciamo giù in descrizione! Ma che cosa c'è qua dietro le mie spalle? Una barca? Non ci posso credere, ragazzi! È esattamente come dice la mappa, le scale le abbiamo appena fatte, siamo scesi dalla roccia, ci siamo sistemati qua, c'è una barca che ci porterà sull'isola del tesoro, esattamente come la barca che c'è qui in mezzo al mare, ragazzi! Ma no, mamma, non hai capito? Quella è la barca dei pirati, dobbiamo fare silenzio, perché se ci trovano ci uccidono a tutti, mamma! Dobbiamo sbrigarci, lo voglio trovare prima io il tesoro di loro, voglio diventare ricca, ricca, ricca! Per forza, mamma, per forza, secondo me ci sono monete, oro, tutto! Sì, sì, tutto, dobbiamo sbrigarci, però la mappa parlava chiaro, in effetti è proprio così! Ecco, è proprio quello il punto! Sì, papi, il punto è esattamente questo, questo rosso qui, esattamente qui! Sì, mamma, tu fai tutte le cose facili, come facciamo a fare silenzio e ad arrivare di là, per non farci vedere dai pirati? Eh, papi, a nuoto, no, anche se in effetti c'è un'indicazione qua, ci sono un sacco di meduse giganti, polipi, polipi, piovre, meduse, squali! Forse a nuoto è un po' pericoloso, serve una barca, una zattera, qualcosa! Mamma, ho trovato un telo gonfiabile! Vediamo! È proprio lì, guarda! Sì, ragazzi, è proprio questo! Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo trovarlo noi, il tesoro dei pirati, sull'isolata, il tesoro! Andiamo, andiamo, dai, sbrigiamoci! Ok, dai, andiamo col gommone! È tutto complicato, ragazzi, come si fa ad andare nuotando fin là? È proprio difficile! Emi, vieni qua! Vieni, amore, vieni! Mamma mia, ragazzi, arrivare fin qua è proprio difficilissimo! Questa è l'ultima roccia da superare, siamo quasi arrivati, vero Emi? Sì! La mamma e Aurora sono rimasti bloccati, c'era un branco di meduse! Andiamo, scendi lì! Scendi, scendi, vai verso quella roccia, Emi! Corri! Guardate, ragazzi, eccoli! Sono i pirati! Aiuto! Ci dovrebbe essere il sentiero adesso, vero? Sì! Guardate dove sono rimasti bloccati, ragazzi, sono circondati dalle meduse! Devo andarle a recuperare! Mamma mia, mamma mia! I pirati sono lì, devo fare pure silenzio! Ecco! Eccovi! Grazie, papi, meno male che ci hai salvato! Ora dobbiamo arrivare là! C'è Noemi, Emi! Venite, venite! Mamma, non mano! Eccomi! Piano piano, eh! Seguitemi! Attenzione dove mettete i piedi, perché ci sono i piragni pure, mamma! No! Anche! No! Veramente, meduse, piragna, esquali! Sbrigiamoci, forza, che siamo quasi arrivati! Attenda, ori, ci sono i piragni! Ah! Mettiamo la barca qui, attraccata! Meno male che abbiamo la nostra barca! Venite! Eccoci! Mamma mia, che coraggio! Se l'abbiamo fatta! Terra, 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 terra! È stata una lotta! Non lo so dove il tesoro! Seguite qui sulla mappa! Mamma, mamma! Alla mappa, Aurora! E allora andiamo, avventuriamoci! È giusto! Guardate, quella è la barca dei pirati! È uguale a questa! È vero, Auri! È esattamente uguale a quella della mappa! Quelli sono proprio i pirati! Vogliono rubarci il tesoro! Dopo tanta fatica che abbiamo fatto per arrivare qui! Non ce lo ruveranno! Non ce lo porteranno via! Io voglio diventare ricca! Eh, voglio vedere l'oro! Voglio vedere l'oro! Papi, ora da dove dobbiamo passare? È molto difficile! Ma dobbiamo salire! A tutti i costi! Bimbe, andiamo! Andiamo! Vai, vai! Dai, Auri, l'ultimo sforzo! Mamma, dammi la mano! Della mano ad Auri! Dai, dai! Eccoci! Siamo tutti qui, mamma! Sani e salvi, fortunatamente! Ma dove siamo? Sopra l'isola! Ragazzi, c'è un panorama pazzesco! Guardate che bello da qui! Guardate! Quanto siamo alti, mamma! Tantissimo! Abbiamo fatto una fatica pazzesca di arrivare fino a qui! Guarda cosa c'è lì! Ecco, mamma! Un altro indizio! Allora, siamo sulla strada giusta! La freccia dice di andare dritto, vero, Emi? Ok, dobbiamo andare dritti, mamma! Aurora, ragazzi! Sta raccogliendo le lumachine! Guardate quante ne ha prese! Guardate le lumachine! Mamma mia! Poverine, ma poi non c'è niente! Sono già morte! Vuol dire che forse moriremo anche noi sotto il sole qui, coccette! Sbrighiamoci! Magari c'è una maledizione su quest'isola! Seguitemi! Andiamo! Guardate che coraggiosse, ragazzi! La mamma si è caricata da Aurora! Forza mamma, dai che ci siamo quasi! Continuiamo, continuiamo! Guarda, papi! Pazzesco! Ancora un altro indizio! Fate silenzio! Sto vedendo la barca laggiù! Forse sono qua i pirati! Ci stanno inseguendo! Facciamo piano! Ma dobbiamo andare proprio lì, verso i pirati! Non hai capito? Incontro a loro! No, io non me la sento, non me la sento! Andiamo a cercare il tesoro, dai! Venite, venite! I pirati sono proprio verso di noi, guarda! Papi, guarda cosa c'è là! Emi! È pazzesco! Guarda l'indizio! C'è una piuma, una pietra e una chiave! Ma cosa vorrà dire? Piuma, pietra, chiave! Prendilo, Emi! Piuma, roccia, chiave! Ragazzi, che cosa vorranno dire questi indizi? Forse ci vorrà una chiave, questo mi sembra ovvio! La piuma e la roccia! Non lo so, una roccia dove all'interno ci stanno dentro i gabbiani! Secondo me è così, papi! Siete già scesi! Ma, ragazzi, ho trovato un'altra freccia! Guardate! Eccola qui, la vedete anche voi? È una freccia che indica qua dentro! Aiuto, ragazzi! Devo infilare la mano, forse! Io non vedo niente! Aiutatemi! Cosa ci sarà qua a dentro? Oddio, è schifo! Deo! Aspettermi! Ho trovato qualcosa! Ragazzi! Ho trovato le chiavi! Allora erano proprio qua sotto! Devo andarlo a dire a papi, subito! Mamma, non troviamo la chiave! Non la troviamo! L'ho trovata io, non potete capire! Eccola qui, vi raggiungo subito! E vieni! Finalmente, ma dove sei stata? L'hai trovata allora la chiave, vero? Eccola qui la chiave! Guardate, ragazzi! La mappa parla chiaro! Io ho trovato la chiave esattamente qua, in questa grotta! Secondo me ci siamo quasi! Siamo vicini alla X, al punto del tesoro! Incamminiamoci, mamma! Proseguiamo! Troveremo sicuramente qualche indizio! Andiamo! Andiamo, bimbe! Corri, mamma, corri! Eccola! Dici di andare ancora dritto! Dobbiamo scalare la montagna ancora, mamma! Ma è altissimo! Secondo me è proprio là dentro quella grotta, papi! E allora andiamo, mamma! Vediamo! Andiamo! Se anche voi volete che i Cavaleri Family trovano questo tesoro, scrivete giù nei commenti! Forza Cavaleri Family! Vero, mamma? Sì! Forza Cavaleri Family! E' proprio questo è il posto, vediamo! Qui c'è una roccia grandissima! Ma qua c'è questo sasso! Lo devo spostare, mamma! Guarda! Non ci credo! Abbiamo trovato il forziere! Guardate, ragazzi! Dentro questa grotta che ho aperto c'è il forziere! Stai attento, papi! Prendilo tu, ti aspettiamo qui! Stai attento che non sbuchino i pirati da là dentro! Posso andare? Andami la mano! Ma qui è pieno di gabbiani, mamma! Che pesante! Eccola! L'ho trovata, mamma! Allora, era proprio giusto! Come diceva la mappa! Ce l'abbiamo fatta! Apriamola, apriamola e diventeremo ricchi! Ma qui c'è un locchetto! Non si potrà mai aprire! Mi serve la chiave! Ma questa è la chiave che ha trovato la mappa! Sì, è proprio quella! Apri, Aurora, vai! Non ci voglio credere, si è aperta! Vediamo, vediamo, sono sicura! Ma che cos'è? Ma cosa sono? Ma cos'è? Ma cos'è? Il maialino! Il maialino di Emi! Sono le monete d'oro! Ma è vero! Sono monete d'oro, Auri! Eccole! E il bracciale con la pietra di smeraldo! Questo sì che è un vero tesoro! Mamma, questo è vero corallo! Farrà tantissimo! Vaiana! Quella di Vaiana! Ma pazzesco! Quella di Oceania! È proprio quella di Vaiana! L'originale, mamma! Ce l'abbiamo fatta! Diventeremo ricchi! Ce l'abbiamo fatta del serio, mamma! Il tesoro dell'isola! Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, ragazzi! Speriamo che il nostro nuovo video vi sia piaciuto! Iscrivetevi al canale Cavaleri Family! Attivate la campanella! Ma ricordatevi! Noi siamo i Cavaleri Family! Aiutiamo Noemi a mettere la collana, mamma! Aiutiamola, aiutiamola! Chiudere il video così, con il panorama mozzafiato! Grazie a tutti!